La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa. Partiamo con il mattino. In apertura le deportazioni di Putin, ucraini schedati e isolati. Un milione trasferito in Donbass, Mosca evacuati da aree pericolose. Lo Zar due ore al telefono con Macron, voglio trattare con Kiev, ma Kiev non è seria. Centropagina con la fotonews, attacco a Kharkiv e battaglia finale a Mariupol, bombardano i giochi dei bimbi. Le sanzioni dell'Unione Europea, petrolio russo, blocco a partire da gennaio. Poi l'intervista a Gallo, a Didi Italgas, biometano e idrogeno. Ecco la ricetta anticrisi. Di lato, super bonus, stop di Draghi, strappo con i 5 Stelle, il capo del governo, triplicati. I prezzi delle ristrutturazioni degli immobili, lira del Movimento 5 Stelle, rispetti dicono la volontà dei partiti. Il retroscena, Conte fa sponda con la Lega, ma il Premier non arretra. Torniamo sul centropagina, rifiuti a Salerno, il grande spreco della differenziata, più spazzatura. Indietro il riciclo, calabrese serve il riuso intelligente. Poi di taglio basso. Davide di Donatello, Sorrentino, mattatore, Orlando, la star, il trionfo del cinema napoletano. Antimafia, la rimonta di Melillo, oggi il voto al CSM, il capo dei PM di Napoli in corsa. Gli appalti ferroviari, la corruzione dei casalesi, gioielli e hotel a Positano. Questa è la prima pagina del mattino. Andiamo a vedere che cosa c'è. In primo piano la guerra in Ucraina, la diplomazia, la colomba e il falco. Macron incarna la linea dell'Unione Europea. Ieri due ore al telefono con Putin. Lo zar alta l'invio di armi. Johnson a Kiev. La pace non c'è fretta. La plastica distanza tra il falco Boris Johnson e la colomba Emmanuel Macron, tra il premier britannico e il presidente francese, sta tutta nell'idea di pace espressa dall'uno e dall'altro. Ieri, non chissà quanto tempo fa, l'inglese nella ringa da primo leader occidentale, videocollegato col Parlamento ucraino alla presenza eccezionale del presidente Zelensky, il francese, nell'ennesima telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. La prima dopo la rielezione all'Eliseo per Johnson. L'Occidente non deve fare alcuna pressione su Kiev perché raggiunga un accordo affrettato con Mosca. L'obiettivo di lungo termine è chiaro. L'Ucraina vincerà e sarà liberata. Noi, dice, la fortificheremo con armi, finanziamenti, aiuti umanitarie, al punto che nessuno oserà attaccarla di nuovo. Faremo di tutto per restaurare un'Ucraina libera, sovrana e indipendente. Il presidente francese invece non vuole spezzare il filo del dialogo. Si è detto disponibile a lavorare alle condizioni di una soluzione negoziata per permettere la pace e il pieno rispetto della sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. Lasciamo questa pagina. Rimaniamo ancora sul mattino. Si parla sempre di guerra in Ucraina. Le sanzioni alla Russia. Stop al petrolio da gennaio. tagli graduali in Europa per non frenare l'economia. Bruxelles passa la linea della Germania, escluse dal blocco Ungheria e Slovacchia. Allargata la blacklist degli oligarchi. Altre banche russe fuori dallo SWIFT. Dopo l'ok della Commissione europea, ieri pomeriggio il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia che introduce lo stop al petrolio da gennaio 2023, arriva oggi sul tavolo dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27. Dovrebbe entrare in vigore prima della fine della settimana. In tempo per rovinare a Putin la parata militare del 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Pertanto a termine un lungo e certosino lavoro diplomatico iniziato già prima di Pasqua, il nuovo round di restrizioni colpirà, ma solo dopo un periodo di transizione di 6-8 mesi e con alcune importanti eccezioni, le importazioni di greggio, che per Mosca sono la principale fonte di introiti e un'importante leva finanziaria per continuare a muovere la macchina da guerra in Ucraina. Rimaniamo su questa pagina di taglio basso a Strasburgo, il manifesto di Mario, una Unione Europea senza veti, rivedere i trattati. Il Premier parla all'Europarlamento e tiene il punto sul tetto comune al prezzo del metano. Andiamo avanti. Lo scontro sugli incentivi Superbonus, Nodi Draghi ha fatto correre i prezzi, il Movimento 5 Stelle parla di attacco irricevibile, il Premier critica l'agevolazione del 110%, noi ecologisti ma non la condividiamo, i costi sono triplicati, nessun incentivo alla trattativa tra le parti per contenerli. La bocciatura arriva con parole sobree ma piuttosto nette, pronunciate in una sede istituzionale. Non siamo d'accordo col Superbonus del 110%, dice Mario Draghi intervenendo al Parlamento europeo. La premessa è che quello da lui guidato è un governo nato come governo ecologico e che quindi fa del clima e della transizione digitale i suoi pilastri più importanti. però specifica il Presidente del Consiglio non siamo d'accordo su tutte le obiezioni alla potente agevolazione approvata per la prima volta dall'esecutivo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte non riguardano tanto i rischi di frode che pure sono state al centro di sbariati interventi correttivi negli ultimi mesi. La perplessità è di carattere più generale e si concentra sul meccanismo che pone interamente a carico dello Stato la spesa per i lavori. Cambiamo pagina rimaniamo sempre sul mattino Escalation del partito di Conte ma il Premier non teme la crisi la linea del Presidente del Consiglio governiamo per aiutare gli italiani il capo del Movimento 5 Stelle alza i toni mi sono sentito ricattato asse giallo-verde con la Lega a furia di parlare di Escalation Militare in Ucraina Giuseppe Conte la guerra l'ha portata in casa nelle ultime 24 ore il leader 5 Stelle ha assestato tre bordate contro Mario Draghi finendo per spedire in sala di animazione il campo largo con il PD del Premier e il più leale sostenitore Conte lunedì ha fatto astenere i ministri grillini sul decreto aiuti perché contrario al termovalorizzatore di Roma ieri è andato alla carica sull'Ucraina Draghi venga a riferire in Parlamento ci spieghi prima di andare a Washington se siamo Falchi o Colombe in più attaccato a testa bassa l'ex capo della BCE colpevole di aver criticato il super bonus del 110% la creatura dei grillini nell'esecutivo si escludono strappi da parte dei grillini la loro è solo tattica non sono davvero pericolosi e con questo lasciamo il mattino ci spostiamo su cronache in apertura caos all'asl Salerno elezioni regionali assunti anche i parenti dei sindacalisti da una intercettazione in mano alla procura di Napoli si evince la richiesta di politici di sostenere De Luca e alcuni candidati al Consiglio regionale per i favori ricevuti e soldi destinati alle opere pubbliche sotto la testata l'intervista ad Antonio Lombardi si paga dice lo scotto della mancanza di politiche energetiche un'altra intervista Federalberghi Ilardi eletto presidente aeroporto dice prima mossa e di lato crocifisso ritrovato Chiara Natella bilancio positivo grazie al virtuoso per i piatti della cucina medievale Centro pagina Salerno e gli anni 90 ricordi di Alessandra Di Pietro il Severi le occupazioni e ricordo di Paolo Masullo Marco Villani si stava insieme con semplicità Salerno era più romantica e a Scafati precipita dal tetto muore il padre del sindaco Salvati Termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità rieccoci di nuovo in studio riprendiamo la rassegna stampa con il mattino di Salerno in apertura sulla prima pagina si parla di ambiente differenziata il grande spreco aumenta la produzione di spazzatura ma il tasso di riciclaggio resta basso ecco perché qui sul mattino l'allarme dai dati dell'ISPRA l'ex assessore calabrese il futuro e potenziare il recupero sempre ambiente fonderie pisano gli annelli al tavolo senza i comitati stop impossibile di lato il leader di federalberghi i lardi più servizi per il turismo serve uno sprint sull'aeroporto centro pagina la salvezza si decide nel fortino Arechi tour de force salernitana 25.000 tifosi contro il Venezia sempre su centro pagina alla violenza nell'agro Rissad disco bar vanno in carcere due sedicenni il ragazzo accoltellato alla schiena e al polmone il giudice sono minori inclini alla devianza e a Ebbo l'idonna travolta sulle strisce condannato l'investitore di lato sanità il nuovo ruggi promosso dai medici è necessario poi la pandemia il covid colpisce gli ultra settantenni manca lo scudo quarta dose questa era la prima pagina che lasciamo andiamo a vedere in primo piano l'ambiente fonderie il tavolo tecnico aperto solo alle istituzioni stop impianto non si può Iannelli presidente della commissione risponde così alle critiche del comitato inviteremo anche Bonavitacola e Asi ma non i sindaci di Baronissi e Pellezzano il tavolo tecnico del comune di Salerno con al centro la questione fonderie Pisano proseguirà la sua attività così come è nato è perentorio Arturo Iannelli il consigliere di campagna libera presidente della commissione ambiente è determinato a portare avanti il lavoro iniziato lo scorso 12 aprile il tavolo rimane tecnico perché è il comune che si deve assumere la responsabilità e l'onere di procedere secondo le norme vigenti e i dati a disposizione allo stato attuale non consentono la chiusura della fabbrica se il comune la chiude in maniera impropria ne paga le conseguenze fuori il comitato salute e vita dunque fuori i Pisano e fuori tutti coloro che non sono istituzioni dentro invece l'asl Salerno che sarà invitata per la prossima seduta in programma il 18 maggio e la regione Campania inviterò l'assessore all'ambiente Fulvio Bonabitacola annuncia gli annelli andiamo avanti andiamo a Eboli travolta sulle strisce due anni all'uomo che guidava il furgone nell'incidente morì la commerciante Giuseppina Tangredi al 27enne Luigi Trinca patente sospesa per la durata della pena battipaglia violento scontro tra auto due feriti a Ponte Cagnano via I Murales il Fontanone torna all'antico splendore andiamo a Vibonati e Ribaltone l'opposizione Scognamiglio resta in sella nuovo colpo di scena il Consiglio di Stato ha colto il ricorso in appello dei quattro consiglieri di minoranze ha sospeso l'esecutività della sentenza del Tar il ricorso sarà discusso il prossimo 24 maggio fino ad allora la minoranza di Scognamiglio resta in carica a Teggiano fare turismo col digitale la città museo in un'app è nato Visit Teggiano il portale turistico realizzato nell'ambito delle attività promosse dal forum dei giovani in collaborazione con l'amministrazione comunale a Vallo della Lucania Enesimo Raidi in una nota profumeria online le immagini delle ladre all'opera a Palomonte colpo grosso alla BCC condannato l'ideatore un colpo in banca ben orchestrato che doveva fruttare un bel gruzzo lo fu messo a segno il 13 agosto del 2020 a Palomonte presso la filiale del credito cooperativo di Buccino e dei comuni cilentani alla fine per la banda sono arrivati arresti e condanne spostiamoci su cronache in primo piano Asl Salerno assunti anche i parenti dei sindacalisti le elezioni regionali del 2020 hanno segnato per nuovi ingressi nell'azienda sanitaria per il CUP regionale le elezioni regionali del 2020 hanno segnato per l'Asle di Salerno lo spartiacque per nuove assunzioni a finire nella rete del CUP aziendale familiari e parenti di sindacalisti che ora con una delibera ad hoc hanno ottenuto l'aumento degli orari per i dipendenti dopo il fallimento del CUP regionale la delibera di affidamento biennale in auto searching del servizio di call center CUP dell'Asle di Salerno con il rinnovo per un altro anno risale al 20 aprile 2022 andiamo avanti è Antonio Ilardi il nuovo presidente di Federalberghi Salerno titolare dell'hotel Polo Nautico eletto ieri all'unanimità prende il posto di Giuseppe Gagliano chiederò subito un incontro all'assessore Ferrara dice e poi con la società che gestisce l'aeroporto Salerno Costa da Malfi questa una delle priorità porremo da subito dice al centro del dibattito questioni strategiche come lo sviluppo infrastrutturale e operativo dell'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano la definizione di una organica strategia di marketing turistico provinciale la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche del territorio il potenziamento del trasporto pubblico su gomma su ferro e via mare sosterremo infine l'azione degli organi regionali di Federalbergo favorendo l'apertura di un dibattito sulla disciplina dei condotel sul baro di un piano regionale di riqualificazione delle strutture ricettive la cronaca Castel San Giorgio coltellate dinanzi al disco pub in manette finiscono due liceali testimonianze filmati incastrano gli autori del tentato omicidio di un sedicenne dopo una lite cominciata in un locale ieri i 17 anni sono stati trasferiti presso il carcere di Nisida con gradi accuse al loro carico la procura violenza gratuita per una causa banale ancora cronaca Eboli travolse e uccise una donna sulle strisce conducente condannato a due anni la sentenza da parte del GUP del Tribunale di Salerno è arrivata nella giornata di ieri a perdere la vita fu Giuseppina Tangredi al giovane che aveva investito e ferito anche un'altra donna è stata pure sospesa la patente per due anni Capaccio champagne abusiva sequestrata nell'area archeologica all'intervento dei carabinieri e infine Sassano veglia di preghiera per la pace in Ucraina l'evento si è tenuto nella giornata di domenica scorsa e termina qui la nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la visione